1977. Vogliamo raccontare alcune cose di quell'anno. Perché? Beh, lo diremo alla fine. I sei maggiori partiti italiani che si accordarono per dare un governo all'Italia si chiamavano Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Liberale Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano, con l'astensione costruttiva del Partito Comunista Italiano. E gli artefici di questo accordo erano nomi come Moro, Zaccagnini, Berlinguer. Intanto nelle piazze disordini e guerriglio urbana, mentre le Brigate Rosse sparno i giornalisti e uccidono. 200.000 persone incontreranno Papa Paolo VI al congresso eucaristico di Pescara. Il presidente egiziano Sadat va a Gerusalemme e incontra il primo ministro israeliano Begin per discutere dei rapporti tra arabi e israeliani. Ma torniamo in Italia. Quando la benzina costava 500 lire al litro e si correva sulla nuovissima Alfetta 2000, fece la sua prima apparizione sulle strade italiane il Multavelox, così si chiamava allora. Ma non rallenta invece la Ferrari che con Niki Lauda vince il Mondiale di Formula 1. Il calcio quest'anno sarà ricordato per le tragiche morti di Luciano Reccecconi e Renato Curi. Nelle scuole intanto scompare la pagella per fare posto alla nuova scheda di valutazione. Andiamo al cinema, tra i colossi come Guerre Stellari di Lucas e Gesù di Nazareth di Zeffirelli, esordisce in Berlinguerti voglio bene un giovane attore dalla divertente parlata toscana, è un tale Roberto Benigni. Ma quindi perché raccontiamo quello che accade in questo lontano 1977? Per dare una cornice a qualcosa di importante che quell'anno accadde proprio alla Spezia. In questo edificio, a Tigua la Canonica, all'ombra del Campanile di Santa Maria, il primo settembre del 1977, mentre nel mondo c'erano gli eventi che abbiamo raccontato, iniziava le trasmissioni regolari e quotidiane Tele Liguria Sud. Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale liberalizzava le trasmissioni televisive in ambito locale, nascevano così in Italia le televisioni libere. Un sacerdote spezzino, don Dino Viviani, parroco di Santa Maria Assunta alla Spezia, ebbe l'idea di creare un'emittente televisiva di ispirazione cattolica. Nacque così in un anno di lavoro Tele Liguria Sud, che da quel giorno ininterrottamente entra nelle case degli spezzini con il suo contributo di informazione. La televisione è uno strumento importante. Ora, chi ha dei compiti nella società, come potrebbe essere il parroco o anche il cristiano semplice, deve essere molto preoccupato di poter usare anche gli strumenti che sembrano forse inidonei, non tanto per comunicare il messaggio del Vangelo. Questo è il compito. Naturalmente poi la televisione ha preso altre strade, è diventata commerciale, è diventata politica. E questa è un'altra visione religiosa, per trasmettere il messaggio del Vangelo, far conoscere a tutti, anche quelli che non hanno la possibilità o la volontà di frequentare, di conoscere il messaggio del Vangelo. Tra mille difficoltà, ma con un entusiasmo che solo chi c'era è in grado di comprendere, Tele Liguria Sud iniziava così il suo cammino.